aburicio che può provare il destro farlo calciare così da solo al limite dell'area quello che all'andata è stato l'unico a creare un tiro in porta si può capire in area sia jovic che il pacario io 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 e allora tutto regolare mi sembra tutto regolare ottavo con tutto regolare cross perfetto il pacarito jovic di testa la mette da pochi passi dai partita pareggiata vediamo se tutto buono sapete sui fuorigiocchi render strappa bene a centrocampo allarga per te ora in posizione regolare tutto assolutamente a farsi trovare pronto 1 a 1 dai dai ragazzi per la doppietta va il 14 del ren rete due a una battuta angolata 2 a 1 sì però guarda non dico niente non dico niente perché sennò urlo e non fai gol sì raffa sì finalmente finalmente gol raffa raffa lea 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 è del gol è del gol fierro è del gol pronto burigio per la tripletta personale pazzesco non è possibile non riesce a far fare tripletta giocatori incredibili non è possibile parte burigio con il destro rete 3 a 2 per il ren 3 a 2 per il ren dai vergogna tripletta di burigio prendiamo 3 gol a partita io sono stufo sono stufo perché non sono l'acchi chievo verona sono l'acchi milan e non voglio prendere 3 gol a partita pazzesco mi sono stufato mi sono stufato